Come scegliere la scuola giusta a Macerata? La scuola paritaria San Giuseppe punta la qualità, dalla scuola materna alla scuola media. Ogni contributo finanziario viene impiegato per offrire agli studenti migliori strutture, materiali all'avanguardia e più opportunità. La parola meditazione deriva dal verbo latino meditari, riflettere, studiare e praticare. La lingua inglese e la tecnologia sono al centro della nostra formazione. La San Giuseppe offre laboratori di teatro e lingua, scrittura, lettura, artigianato, coro, opera circo, sostenibilità, dove la curiosità e la creatività possono crescere. Scuola paritaria San Giuseppe Macerata, sulla strada dei vostri sogni.